Ci avviciniamo alla fine della puntata di oggi di Play, ma in realtà l'elemento più succoso di tutta la puntata sta arrivando proprio in questo momento. In realtà non ve l'ho ancora detto, è un argomento che non affronterò soltanto io nella giornata di oggi, nella palinsesto di RBA, ma anche i miei colleghi, dopo di me, prenderanno in là a partire da una campagna lanciata da Italian Climate Network rispetto ad un elemento centrale, forse il più importante in questo momento nell'ambito della discussione internazionale attorno alla crisi climatica, che è molto veregata, ha tanti pilastri, forse questo è quello sul quale ci dobbiamo soffermare in questo momento. Non vi dico altro, non prima quantomeno di aver presentato il nostro ospite, ritorna sulle nostre frequenze, Jacopo Bencini, ciao, bentornato. Buongiorno e grazie a voi per l'invito, di nuovo. Assolutamente, grazie a te, tu sei insomma un po' la nostra voce, chiaramente per l'Italian Climate Network la nostra voce quando dobbiamo farci spiegare questioni di politica e clima messe assieme, insomma qualcosa di molto complicato. Ma partiamo appunto da questa campagna, voi l'avete lanciata qualche settimana fa, proprio in vista della prossima COP che inizia tra pochissimo, ma in realtà fa riferimento a qualcosa che nasce teoricamente nella scorsa COP, ovvero l'istituzione di questo fondo, il fondo perdite e danni, e quindi anche se ne ho parlato tante volte, ne avevo parlato proprio con te un anno fa, partiamo proprio dalle basi, ci fai un po' un riepilogo di che cosa si tratta? Beh, certo, diciamo che COP26 del 2021, la famosa COP di Glasgow, la prima dopo lo stop della pandemia, segnò in un certo senso l'inizio di una battaglia politica da parte dei paesi del cosiddetto Global South, cioè diciamo di tutti i paesi che una volta avremmo chiamati in via di sviluppo, per far tirar fuori più risorse, più soldi sostanzialmente ai grandi inquinatori occidentali, non solo in termini generali, ma anche in maniera specifica rispetto a quella che dovrebbe essere la giusta compensazione per perdite e danni subiti legati ai cambiamenti climatici. Quindi in un qualche modo verso atti di responsabilità antifinanziare in questo senso internazionale, secondo la quale appunto i paesi più ricchi e che storicamente hanno emesso di più, danno una mano a quelli più in difficoltà, che così non devono legare i propri budget nazionali, i propri bilanci nazionali a ricostruzione e indennizia, alla cittadinanza, alle imprese, quando ci sono appunto delle perdite importanti. Questo è un po' il tema di perdite e danni. Non era emerso così chiaramente forse alla fine di Glasgow, se non per gli osservatori più attenti. Sei mesi dopo, agli intermedi di Bonn nel 2022, invece, questo gruppo di paesi del sud del mondo comincia ad alzare la voce e dire se non vengono messe delle risorse in prospettiva e non troviamo degli strumenti per dare compensazioni rispetto a queste perdite e questi danni, noi non andiamo avanti su nessun altro filone negoziale sostanzialmente. Ed ecco che, di nuovo sei mesi dopo, a Sharm el Sheikh, alla COP27 dello scorso anno, arriva incredibilmente sul tavolo, nell'agenda dei lavori, appunto, la creazione di un fondo internazionale a sostegno, a compensazione, noi diciamo, di perdite e danni. Non era nell'agenda dei lavori dall'inizio, nessuno se lo aspettava, nessuno si aspettava che veramente la presidenza egiziana avrebbe puntato su questo e non solo lo ha fatto, ma ci sono anche riusciti. Dopo 30 anni che se ne parlava, viene appunto presa questa decisione storica un anno fa di lanciare il fondo, in teoria, entro questa COP. Nel frattempo, però, come si è sviluppata la cosa? Chi paga? Quanto paga? Quali sono le responsabilità? Se ci sono delle percentuali? A quali paesi? A chi vanno eventualmente queste risorse? Ecco, durante il corso di tutto il 2023 ha lavorato un comitato di transizione composto da esperti in maggioranza del sud del mondo, provenienti da paesi in via di sviluppo. Questo comitato di transizione ha il mandato di produrre una bozza di regolamento di funzionamento, diciamo, del fondo, che verrà poi esaminata appunto a COP28 tra poco più di un mese. Noi come Italian Climate Network ci siamo detti, ma se ne parla di questo mega tema che ormai sta dominando la politica internazionale? No, non se ne parla in Italia, non se ne parla nel mondo dell'ONG, perché è un tema all'apparenza molto complesso. E quindi ci siamo anche detti, visto che è complesso, ma è anche un tema di giustizia climatica, proviamo a parlarne noi. Lanciamo noi una campagna nazionale e vediamo chi ci dà una mano e chi ci segue. Perché guardate, non se ne parla a livello di governo, non se ne parla in Parlamento, non se ne parla quasi da nessuna parte. Quindi la domanda di Italian Climate Network, insieme e come parte di un più ampio consorzio paneuropeo di ONG e di movimenti, è questo. Cosa si riuscirà a dire e a fare come governi europei, in particolare per noi l'Italia, a COP28 su questo tema? Metteremo dei fondi, delle risorse in questo nuovo fondo che nascerà? Daremo l'esempio? Perlomeno proveremo a parlarne? E in questo senso esiste per fortuna una campagna europea di cui noi facciamo parte sul nostro sito italiaclima.org. trovate anche una bella petizione da firmare che chiede di far pagare i ricchi inquinatori. Alla fine il succo della vicenda è questo, no? Make the rich polluters pay. Ecco, e da parte nostra, più per l'Italia, abbiamo lanciato questa campagna che si chiama Sotto i nostri occhi. Un titolo provocatorio che, devo dire, ci ha suggerito un'agenzia di comunicazione con cui lavoriamo. Un titolo provocatorio perché ciò che sta avvenendo, i disastri, le perdite, le sparizioni di intere comunità, pensiamo agli stati insulari, del Pacifico, e tutto questo avviene davvero davanti a noi. Ma noi riusciamo comunque a far finta di non vedere qualcosa che accade sotto i nostri occhi. E allora, proprio sotto i nostri occhi, abbiamo deciso di far sparire i nostri profili social, di far sparire il nostro sito, esattamente come spariscono queste comunità, queste storie, queste persone. Lanciando quindi un messaggio appunto il più provocatorio possibile per provare a stimolare una reazione. Esatto, quindi insomma questo è il punto di partenza di questa campagna che si sta svolgendo. Hai citato il vostro sito, e voglio ribadirlo anche io, appunto, italiaclima.org. C'è la petizione, c'è la spiegazione della campagna, ci sono anche una lunga serie di articoli, di approfondimento, perché appunto, come dicevi tu, insomma, il punto di partenza di tutto questo in realtà è il fatto che questo sia qualcosa di molto complesso, di un po' ostico, e quindi voi lavorate anche con una lunga serie di articoli proprio per spiegare, per insomma ragionare in termini appunto comprensibili di queste tematiche complesse, talmente complesse che quindi noi qui su RBA quest'oggi cerchiamo insomma di districarle, puntata, trasmissione nel corso della giornata. Come vi dicevi tu però tutto questo arriva in contempistiche non casuali, siamo alle porte quasi della prossima COP e quindi proviamo a arrivare a questo nuovo summit proprio a partire da qui, dal fondo perdite e danni. Insomma, quali sono le prospettive per questo elemento del dialogo internazionale che si aprirà tra qualche giorno? Guarda, dedico 30 secondi per un ringraziamento veramente di cuore, tu hai citato gli articoli di approfondimento. Un ringraziamento di cuore a tutte le grandi firme del giornalismo italiano che si occupano di ambiente e di clima che hanno scelto di darci una mano volontariamente, penso a Ferdinando Cotugno, penso a Antonio Piemontese, penso a Giuffre di Sky, ecco sul nostro sito trovate tanti approfondimenti di grandi giornalisti, persone che seguono con passione questi temi che hanno deciso di dare una mano perché anche loro frequentando le COP hanno avuto come noi la sensazione che in Italia non se ne parlasse e quindi veramente grazie, grazie anche a tutti quelli che seguiranno nel corso della campagna. COP28 rischia di essere l'ennesima COP che parte senza aspettative particolari. Il contesto internazionale, non c'è bisogno di dircelo, è molto confuso, si cammina su un terreno molto instabile, direbbero gli inglesi on fragile grounds, è quello che si sente dire in queste prime riunioni. Però pensiamo che anche la COP dello scorso anno a Sharm el-Sheikh partiva così e poi è diventata da un certo punto di vista una COP storica. Allora conviene isolare oggettivamente i vari ambiti di lavoro. Il più importante è quello della riduzione delle emissioni, clima alteranti e il nocciolo del tema, se vogliamo, sta qui. E qui si parte con una nota negativa, neanche quest'anno, neanche a Dubai si parlerà di un aggiornamento dei piani nazionali sulle emissioni. L'aggiornamento avrebbe dovuto arrivare entro la scorsa COP, però l'invasione russa dell'Ucraina e tutti i conflitti che stanno purtroppo, riprendendo la scena politica, quest'anno creano sicuramente tanta volatilità, tante incertezze, soprattutto sui mercati dell'energia. Quindi nessun paese si sente in questa fase di presentare obiettivi nuovi. Normalmente nella storia questo processo è stato guidato dall'Unione Europea e quando ci sono i democratici al governo dagli Stati Uniti, l'Unione Europea arriva abbastanza indebolita a questa COP28, non fosse altro perché il 9 giugno dell'anno prossimo votiamo per il Parlamento Europeo e quindi negozierà una commissione già uscente. Abbiamo un nuovo commissario europeo, tra l'altro, perché Timmermans ha dato le dimissioni per tornare a fare politica in Olanda, commissario europeo, Sefcovic, che è gli stesso già uscente appena entrato. Quindi sicuramente non ci saranno grosse novità dal punto di vista europeo. Gli Stati Uniti allo stesso modo vanno ad elezioni l'anno prossimo. Quindi anche lì si parla di una presidenza uscente che cerca una ricandidatura. Ecco, questo è un po' lo scenario. Il tema delle emissioni sarebbe centrale, ma si va sicuramente a COP29. COP29 che, tra l'altro, dovrebbe tenersi per rotazione geografica nell'ONU in un paese dell'Europa orientale, ma pare che ancora nessun paese di quell'area abbia avanzato una candidatura. Quindi c'è addirittura il rischio di fare due COP consecutive a Dubai e gli Emirati hanno già dato la loro piena disponibilità. Forse potrebbe arrivare una candidatura polacca dopo l'esito delle ultime elezioni di qualche giorno fa, però è ancora tutto in forze. Per quanto riguarda gli altri temi caldi di questi anni, la finanza per il clima e lo sviluppo tecnologico e i fondi a compensazione di perdite e danni, sulla finanza qualcosa dobbiamo necessariamente aspettarci, secondo noi. Perché ogni paese che ospita una COP ci tiene a fare bella figura sul piano internazionale, giocando sui temi che sa maneggiare già. E gli Emirati Arabi, sicuramente, su ricerca e sviluppo in tecnologie e mobilitazione della finanza, sicuramente sanno lavorare. Il presidente della COP, che peraltro è CEO, amministratore delegato dell'azienda di Stato, petrolifera, la ADNOC degli Emirati, però ha già annunciato anche all'Africa Climate Week di, ormai un mesetto fa, importanti contributi emiratini in quel caso, ma ha parlato di mobilitazione di finanza a livello più ampio. Quindi qualche annuncio in questo senso potrebbe arrivare a sostegno degli sforzi dei paesi del sud del mondo, in particolare sulle misure e sulle azioni di adattamento. Per quanto riguarda la finanza per il clima in misura più generale, dovremmo vedere effettivamente cosa viene fuori. non c'è contezza in questo momento dei negoziati in corso, saranno tutti accordi che arrivano extra negoziali. Quindi vedremo veramente nelle settimane della COP. Per quanto riguarda il fondo perdite e danni, si dovrebbe arrivare al lancio di questo fondo, è ovvio però che nessuno vuole vedere un fondo partire con zero euro di dotazione. Chi metterà le prime risorse? Qui è una gara tutta geopolitica a fare bella figura su questo tema e allo stesso tempo per alcuni paesi come gli Stati Uniti in America a fuggire da parole come responsabilità storica, che per alcuni paesi è un termine molto pesante e che richiama a quel punto poi ai nativi americani a tante questioni che quei paesi non vorrebbero trattare. Ci aspettiamo qualcosa dalla Cina, ci aspettiamo qualcosa dall'India, dai paesi del mondo OPEC, sicuramente il lato medio orientale. Vedremo come arriveremo alla creazione di questo fondo e da chi sarà gestito perché, vi lascio con questo pezzettino finale, c'è adesso un dibattito in corso nel Comitato di Transizione, nel Comitato di Esperti, se mantenere il fondo autogestito all'interno delle Nazioni Unite e quindi Nazioni Unite Clima, come vorrebbero tutti i paesi del Global South, oppure se farlo gestire alla Banca Mondiale. Qualcosa che, visti anche i precedenti con le ristrutturazioni finanziarie che sono state imposte da alcuni paesi in cambio di prestiti, è qualcosa che sicuramente non piace ai paesi sudamericani, africani e centroasiatici. Quindi questo è un po' il dilemma e vedremo un po' come andrà a finire. Quindi in realtà, ecco, lato emissioni, aspettative pochissime, su tutto il resto diamo fiducia al multilateralismo per fare qualche piccolo piccolo passetto in avanti, però poi COP29 e COP30 dovranno necessariamente parlare di emissioni, di riduzione delle emissioni, di mitigazione. Esatto, esatto, speriamo. Chiaramente nel momento in cui la COP è preseduta dal leader dell'azienda petrolifera locale, insomma, le aspettative su questo tempo sono quelle che sono. Insomma, chi ci ascolta e chi ci guarda ha capito senz'altro che ancora una volta i filoni da seguire sono tantissimi, ma abbiamo provato a tirarne qualcuno, ma dovremo poi andare più a fondo. Quindi, insomma, Jacopo, magari ci sentiremo quando saremo dentro alla COP o subito dopo la COP per ragionare un po' di tutto questo. Grazie mille, grazie mille. Insomma, vi ricordiamo tutti di dare un'occhiata in questi giorni, in particolare a italiaclima.org, per seguire questa campagna legata al fondo perdite e danni. Insomma, per ora, grazie mille Jacopo Bencini e alla prossima. Grazie a voi. Grazie a voi.